Ciao ragazzi, benvenuti in questa classifica top 5 dei bug più strani, spettacolari diciamo, che avevamo mai visto in Dota. Allora, questo abbiamo qui in mezzo a questi Axe, uno Slardar, e ora vorrei sapere quanti secondo voi di questi Axe verranno colpiti dal mio stone. Ebbene, sono tutti assolutamente, guardate quanto sono lontani. Sembra incredibile, ma sì, lo stone di Slardar è così grande e non sembra assolutamente dell'animazione che ha. Ok, detto questo, vediamo qualche altro eroe. Cambiamo il nostro eroe e ora vi farò vedere un'animazione di Slark. Anche questa super, diciamo, buggata, perché, come tutti sapete, la W di Slark è questa qui e fin qua non ci piove, giusto? Ebbene, mettiamo un eroe nemico. Ok, ora sappiamo tutti come funziona. Così, in questo modo, voi usate la nostra W su di lui e, giustamente, gli saltate addosso. Il problema è che, se anche la usate fuori da lui, mi ci intrappolerà comunque, e questo è a causa del raggio che Pounce ha di ricerca. Quindi, lo rivediamo. E guardate quanto è, diciamo, game breaking, perché se anche voi state scappando da uno, se lui si blinca qua, il vostro Pounce non avrà effetto anche se stavate pounsando via da lui. Quindi, questa era la top 4 più fuorviante animazione. Ora vi faccio vedere quella di Queen of Pain. E ora vediamo un attimo quanto è lunga la Ultimate di Queen of Pain. Ok, è piuttosto grande, giusto? Ottimo. Ora abbiamo questi Axe. Noi siamo piuttosto lontani. E guardate quanto arriva più in là di quanto dovrebbe. Ecco qui, ragazzi. Questa era la animazione, o la terza animazione più fuorviante. Ora, una che assolutamente è impensabile, che è quella di Shadowfind. Che ha due di queste animazioni fuorvianti. La prima è la Raze. E la seconda è la Ultimate, che è veramente ineccepibile. La prima animazione fuorviante è la sua Raze. Infatti, tutti saprete come funzionano. Ora utilizzerò la mia prima Raze. Vedete, accade davanti a me. La mia seconda Raze e la mia terza Raze. Quindi, fin qua, tutto è normale. Ora, uno si aspetterebbe che la prima Raze non colpirebbe uno dietro di me. E invece, ragazzi, guardate. Se ci posizioniamo nel modo corretto, la Raze colpirà i nemici dietro dell'eroe che usa la Raze. Ecco, ancora ve lo mostro un'altra volta. E questo è perché la Raze ha 200 di citata, ma ha tipo 250 di raggio, o 225. Quindi, vi arriva addirittura dietro di voi. E la più eclatante in assoluto di tutte è la Requiem delle anime di Shadowfind. Guardate quanto è buggata questa animazione. Bene, ora mi posizionerò qui, in visione di tutti questi eroi che ci sono. E guardate quanto è buggata l'animazione. Ok, l'anima arriva fino a circa, vi do un segnale con il mouse. Arriva fino a qui, non so se l'avete vista. L'anima arriva fino a qui e il danno arriva fino a qui. Cioè, questa animazione è probabilmente la peggiore del gioco in assoluto. E veramente è super fuorviante. Quindi vi faccio vedere l'ultima, che invece è quella di Enigma. Che però non è così eclatante come quella di Shadowfind. Quindi, in questo caso si carica sempre della sua Ultimate. Quindi, vediamo. Questo è il raggio, appunto, si vede bene da... Se usate puntatore blu, tipo, ora utilizzerò la mia Ultimate qua. Guardate quanto è grossa qui. Eppure, se ci facciamo camminare in mezzo a un eroe, guardate quanto prima di tipo 100 unità accade il risucchio. Guardate, di nuovo. Non sono per niente dentro al Black Hole, eppure vengo risucchiato. Quindi, niente. Per questo episodio è tutto. Fatemi sapere se ne conoscete delle altre, perché queste cose mi interessano molto. Questi bug e glitch. E per questo episodio è tutto. Al prossimo video. Al prossimo video. Grazie per la visione!